Bene, dopo questo brano, proprio adesso si riva anticipato, anzi non ci ho anticipato perché c'era anche un'altra una solista. Adesso passiamo ad un altro brano che è una canzone. Questa canzone è stata scritta nel 1977 dai Quigine, però viene anche utilizzato in un film. Ed esattamente era un film, penso che si dica così, Cicchie Vitte, quello del pollo, non so se vi ricordate, un film che è stato fatto nel 2005, quindi un po' di centri fa. E naturalmente però questo personaggio non cantava un miarete e centri, non è il titolo della canzone, ma cantava a niente, io sono il campione di questa canzone. E io questo brano volevo dedicarlo personalmente al mio gruppo della base, perché tutti noi dobbiamo essere campioni nella vita, e volevo anche dedicarlo all'altro gruppo che è il gioco, quello del videoerro, sapete che da qualche anno già facciamo anche questa altra attività del medievale, che è un'altra attività, che è un'altra attività, grazie a quello che io sto facendo con loro, mi è pervenuta notizia, la domenica dell'ufficialità, cioè ufficiale della prevenzione sarà a dicembre, mi è pervenuta notizia che sono stato convocato e mi hanno pubblicato che io, come tra le nostre stesse, come persona, vincerò il premio speciale dell'UNESCO 2015. Questo mi ha, normalmente, dato molto orgoglio e molto responsabilità, perché vincere il premio UNESCO significa essere una, per favore, bandiera del territorio. E io lo sto cercando, nel mio amico, insieme a loro e insieme a tutti, di poter portare il nostro territorio in diversi posti e sempre in un'altra parte. Quindi, sia le nome di Pacevo, di Trava e di Eci, che considero sempre l'unica città, naturalmente sono tre comuni, però io penso che siamo sempre tutti bene e uniti. E quindi, we are the center, tutti noi siamo campioni nella nostra vita, nel nostro vincolo, e riusciamo a tenere i premi che vediamo. A voi! Grazie. 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 Grazie.